Enrico, raccontaci un po' la storia per la realizzazione che ha percorso Alessandro Benvenuti per fare questo film. È una storia molto bella che Alessandro nell'intervista racconta con ricchezza di particolari. Praticamente alla base di questo film c'è una pièce teatrale che era Benvenuti in Casagori per l'appunto, in cui Alessandro Benvenuti tutti i personaggi di questa famiglia li interpretava da solo. Sul palcoscenico faceva le mille voci di un pranzo di Natale. Un'esperienza straordinaria che quando lui racconta ancora si commuove anche perché è nata veramente per caso. Da un pomeriggio di lui e Ugo Chiti, che era coautore dello spettacolo ed è cosceneggiatore del film, dove Alessandro ha cominciato a buttare giù ricordi dei pranzi di Natale, battute dei familiari e lo stesso ha fatto Ugo Chiti, se l'è scritto e l'ha messo in un cassetto. Poi al teatro di Rifredi, se non vado errato, nell'87, una sera dopo lo spettacolo delle Galline, la prima, fu invitato dal direttore, che è ancora l'attuale direttore del teatro, Mordini, a salire sul palco a fare qualcosa. Cioè che faccio? Vabbè, ho questa cosa, la leggo. La lesse e fu una esplosione, letteralmente. Tant'è vero che Alessandro poi, per la seconda serata, chiamò assolutamente Ugo Chiti che venisse a vedere quello che accadeva. La sera dopo, spettacolo delle Galline, successo, rilettura di nuovo di questa cosa da parte di Alessandro Benvenuti, un'esplosione, dice Alessandro, se possibile, ancora maggiore. Allora, dette tutto il materiale a Ugo Chiti, che ne tirò fuori, sempre poi anche in collaborazione con Alessandro, lo spettacolo, che Alessandro ha rappresentato da solo a più voci. Un'esperienza che all'epoca, si parla di oltre vent'anni fa, era più unica che rara, in Italia forse era proprio unica, ed è un testo che ha avuto un successo strepitoso. Dopodiché Alessandro ha continuato nella sua carriera, finché ci fu questo periodo, sempre del fine degli anni Ottanta, dove, dopo l'esordio ad Ovest di Paperino, che fu un film incredibile, girò questo, era notte una buia tempestosa, che non ebbe il risultato che voleva. Insomma, per farla breve, in questa fine degli anni Ottanta, grazie anche a Novello Novelli e a Ugo Chiti, ci fu un meraviglioso riavvicinamento tra Alessandro Benvenuti e Francesco Nuti, che, come sapete, avevano avuto dei diverbi, dei disaccordi notevoli dopo ad Ovest di Paperino, quando finì l'esperienza dei Gian Cattivi che avevano, e così riuscirono a far sì che Francesco Nuti, tramite la Union PN, insieme a Piccioli, fosse il produttore di questo film. E il film è così nato ed è diventato uno straordinario film da un attore, che era Alessandro, uno straordinario film di attori. Un film che è una storia avvincente, dove non mancano i colpi di scena, ma anche dove c'è un cast di tutto prestigio. Vuoi parlare degli attori? E infatti, questa è una cosa molto importante, perché sono dei tipi che sono rimasti proprio nel nostro immaginario. E Alessandro scelse tra gli attori quelli che avevano la somiglianza maggiore ai personaggi veri ai quali si ispirava la sua storia. Senza però che si creda che le persone rappresentate, cioè i personaggi rappresentati nel film, siano identici alle persone, insomma, sono spunti ovviamente. Per cui abbiamo un cast dove la coppia di anziani, diciamo, è fatta da Adele, interpretata da Ilaria Occhini, e da Carlo Monni, che fa Gino Gori, è una coppia assolutamente straordinaria. Poi abbiamo, tra le coppie giovani, Danilo Massimo Ceccherini, che lì fa veramente la sua interpretazione cinematografica più alta, e Barbara Enrichi, che è sempre veramente molto brava, che fa la fidanzata. L'altra coppia è Lapo, che è Alessandro Benvenuti, e Ornella Marini, che fa la moglie di Lapo nel film. Queste le coppie giovani. Poi c'è questo straordinario Novello Novelli, nella parte del nonno Annibale, che è rimasta veramente nella storia la sua più grande interpretazione. Lui dice addirittura che dopo quel film i suoi molti giovani, molti ragazzi, dicevano, sai che da quando ho visto questo film tratto il mio nonno in maniera diversa? E per questo lui dice, è una delle emozioni più grandi. Senza dimenticare la grande sorella di Adele, Bruna, Atina Cenci, con il marito libero, Giorgio Picchianti. E quindi è un gruppo familiare veramente ben assortito. Grandi attori, grandi scene, per un film che trova anche nella grande fantasia cinematografica di Alessandro molti punti a favore. E nella grande umanità, che io ho avuto modo di verificare personalmente nel mio rapporto con Alessandro, che conosco dai tempi di Zitti e Mosca, quindi l'anno dopo di questo film, ma anche ho potuto constatare, andando a parlare con gli attori, che ricordano quanto Alessandro avesse diretto questo film in maniera estremamente professionale, ma mettendo tutti assolutamente al proprio agio. Quindi è una grande avventura che questo libro cerca di ripercorrere in tutte le forme possibili e immaginabili di cui sono stato capace. È in distribuzione dal 20 di dicembre per la NTE Edizioni. Mi piace ricordare un'ultima cosa, in questo periodo, mentre esce il libro, ovviamente anche Alessandro ha pensato di ricordare l'evento e quindi riprende al Teatro Dante, al Teatro di Rifredi, la commedia Benvenuti in Casa Gori, in una versione sua, dove lui non c'è, c'è come regista, ma non è dentro, e dove Adele, Gino è sempre Carlo Monni, perché ormai Gino è Carlo Monni, non è possibile scendere le due cose, dove Adele è interpretata da una straordinaria Anna Meacci. Un invito allora a tutti per andare a rivedere questo film o per andare a vedere per la prima volta.